Bentornati e bentornati in diretta, la nostra puntata di Voce delle Chiese prosegue fino alle 15 ancora insieme per raccontarvi tante piccole parti di una grande realtà che insomma al mondo delle chiese evangeliche in particolare ci dedichiamo alle chiese valdesi e metodiste questa settimana, visto che si sta appunto svolgendo il sinodo delle chiese valdesi e metodiste a Torre Pellice e quindi progetti, iniziative, riflessioni, appuntamenti, incontri, che si svolgono diciamo in tutto l'arco dell'anno ecco all'interno della chiesa valdese e in varie parti ovviamente d'Italia. Ci spostiamo a Genova adesso infatti, almeno col pensiero, ecco fisicamente siamo sempre qua a Torre Pellice nella biblioteca della casa valdese nel nostro studio mobile attrezzato ma col pensiero andiamo a Genova grazie anche al nostro ospite Domenico Piccolo, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno Domenico, membro della chiesa valdese di Genova. Sì, sì, sì. Qua a Torre Pellice per qualche giorno. Qualche giorno giusto per fare insomma un po' di contatti e soprattutto diciamo per testimoniare l'inizio del sinodo, cioè essere qua è sempre un bel evento questo dell'apertura del sinodo. Domenico tu sei membro anche della commissione evangelizzazione della tavola valdese e ci leghiamo proprio a questo tuo ruolo per presentare diciamo la due giornate, due giornate di attività ed eventi che la chiesa valdese di Genova sta organizzando in questo anno particolare. Quest'anno 2024 è un anno importante insomma per la chiesa valdese, ricorrono gli 850 anni dall'inizio del movimento valdese, da Pietrovaldo, da Lione e poi susseguirsi di storia che è passata in varie parti d'Europa e si vuole ricordare e celebrare insomma questa presenza anche con delle iniziative che possano svolgersi sul territorio che è un po' quello che avete state pensando di organizzare a settembre. Sì, a settembre, il 21 e il 22 settembre abbiamo pensato come commissione di fare diciamo un evento a Genova un evento che tra l'altro fa filotto perché abbiamo non soltanto gli 850 anni del movimento valdese ma ci sono anche i 160 anni della chiesa valdese a San Pierdarena e c'è anche i 40 anni di Radio Beckwith che sono un sacco di anniversari e in più il fatto che la chiesa valdese, diciamo le due chiese valdesi di San Pierdarena e di Genova hanno da quest'anno formato un unico corpo, è una chiesa valdese di Genova e quindi prendendo diciamo lo spunto questo evento può essere un volano molto importante per presentarsi alla città, soprattutto non solo, non alla città tra virgolette ma ai residenti perché l'evento si terrà proprio nei quartieri, quindi diciamo il 21 di settembre che sarà un sabato dalle 10 alle 18 noi siamo presenti con gazebo, palco e diciamo iniziative in piazza Settembrini di fronte alla chiesa a una delle sedi della nuova chiesa valdese, quella di San Pierdarena in piazza Settembrini che tra l'altro è attigua alla stazione del tema per cui si raggiunge benissimo e saranno presenti diciamo i membri della chiesa valdese, della chiesa ispano americana di Genova che comunque collaborerà con noi e è stato un bellissimo regalo che ci fanno di collaborare con noi perché comunque ci sentiamo tutti membri di un unico corpo e ci saranno i membri delle chiese del circuito quindi diciamo anche il circuito farà festa con noi, il quinto circuito diciamo le chiese del Liguri da Ponente a Levante e le chiese del Basso Alessandrino che fanno parte del quinto circuito. Oltre a queste presenze ci saranno anche la presenza gradita delle chiese battiste di Genova e Chiaveri che nonostante la chiesa battista avrà il suo sinodo in quel periodo lì ha comunque deciso di partecipare con diciamo con una rappresentanza purtroppo le date non sempre si riescono a accomodare al meglio però per fortuna ci saranno anche loro e quindi sarà un evento soprattutto di evangelizzazione. Noi ci presentiamo alla cittadinanza come chiesa in cammino e che diciamo si guarda alle spalle, si guarda quella che è stata la sua storia e cerca di trovare diciamo nuovi spunti e nuove diciamo modalità di presenza certo sul territorio e sul territorio e sull'attualità. Sì e quindi diciamo sarà un evento di evangelizzazione sarà un evento in cui noi parleremo della nostra storia e nella chiesa ci saranno delle proiezioni sulla storia. Ecco veniamo al programma di queste due giornate perché oltre a questa presenza molto giustamente Ligure che ci hai ricordato ma in realtà poi arriveranno rappresentanti di varie attività della chiesa da varie zone diciamo. Avremo diciamo come, allora ci saranno una parte esterna gestita con musiche e parole una serie di interventi dei gruppi musicali delle chiese Battiste e Valdesi e della chiesa ispano americana, ci sarà l'intervento della, che saranno nostri ospiti speciali del liceo, il coro del liceo Valdesi di Torre Pellice e avremo inoltre la presenza del, diciamo, del gruppo del Teatro delle Ombre del Museo Valdese che organizzerà uno spettacolo nella saletta della diaconia, diciamo, a Tigua al Tempio per i bambini, per cui diciamo ci saranno due spettacoli al mattino e pomeriggio in modo da coinvolgere anche i più piccoli. Saremo presenti anche noi? E sarà presente, lo lascio per l'ultimo, Radio Beckwith che riprenderà e insomma... La rilancieremo, certo, in diretta anche alcuni momenti. Appunto, perché abbiamo voluto avere anche voi per testimoniare un po' questo momento che comunque è un momento importante, è un momento che vuole rappresentare un, diciamo, una ripartenza di una chiesa che comunque si è costituita ex nova. Certo. E poi il programma prosegue il giorno dopo, perché appunto era due giorni, non si conclude il sabato, sebbene insomma sarà piuttosto intenso, dalle 10 alle 18 della sera, ma il giorno successivo ci si ritrova tutti a questo punto nel Tempio di Viassarotti. Nel Tempio di Viassarotti, dalle 10 e mezza, ci sarà il culto che è stato, verrà organizzato da un gruppo liturgico allargato di tutte e tre le chiese, diciamo ormai la chiesa valdese che è una sola, e la chiesa ispano-americana e sarà un culto, diciamo, un po' particolare e ci sarà la presenza di Radio Beckwith e il coro del liceo valdese che parteciperà attivamente. Insomma avete auspicato, avete cercato e chiesto una buona collaborazione, mi sembra che l'abbiate è anche ottenuta, che si sia messo in movimento una macchina notevole. Sì, abbiamo cercato di coinvolgere che fosse un momento corale e devo dire che Genova ha risposto molto bene in questo e speriamo soprattutto nella presenza del vicinato, della popolazione che risponda positivamente. Quindi rinnoviamo l'invito anche a voi, ascoltatori e ascoltatrici, se ci state ascoltando magari da qualche zona vicina, Genova, perché no? Non prendetevi appuntamento, no, non ti impegni, ma prendete invece l'appuntamento per queste due giorni, quindi il 21 e 22 di settembre, sabato e domenica, una o due giorni di festa in occasione degli 850 anni dell'inizio del Movimento Valdese, dei 40 anni di Radio Beckwith, dei 160 anni della Chiesa Valdese di Genova. È un momento anche per conoscersi, perché poi alla fine è bello anche questo, uno scambio in cui ci si conosce maggiormente, in cui si collabora per portare a casa un prodotto in corale, appunto, come dicevi tu Domenico. e il culto, che appunto sarà condiviso e trasmesso in diretta sulle nostre frequenze, insomma, un bel momento di festa. E per informazioni... Bravo, se qualcuno avesse bisogno, lo volesse aggiungere su questo momento, voglio venire anch'io... Potete scrivere l'email genovachiocciolachiesavaldese.org Perfetto, semplicissimo, quindi potete scrivere e chiedere appunto dettagli che comunque poi arriveranno in modo più dettagliato nelle prossime settimane. ci sarà anche modo per darvi qualche informazione più precisa. Nel frattempo segnatevi già questo appuntamento. Ti ringrazio Domenico Piccolo per essere stato con noi, membro anche della Commissione Evangelizzazione della Tavola Valdese. Ci sentiremo in vista della Due Giorni. Assolutamente. Buon lavoro, a presto, ciao.